Musica No, bene, c'erano le domande sulla geografia Ma era facile Abbiamo giocato come una squadra e il risultato è arrivato Musica Sì, sono state fissi? Sì, sono state fissi? Noi! Sì, sono state fissi! Sì, sono state fissi! Sì, sono state fissi! Sì, sono state fissi! Questa è stata un'ottima trisata sia! Sì! Sì! Sì, sono state fissi! Grazie a tutti La prima prova, quando siamo arrivati e è stata subito l'entrata così improvvita Quando arrivavamo lì sulla scena e scoprivamo cosa dobbiamo fare Quando in Arma c'è completamente da solo su una steccatura Oggi quando salendo su per la salita ci siamo messi a cantare l'Eco d'Italia tutti insieme Perché si è sentita tutta, proprio la carica e quanto abbiamo lavorato per arrivare qui E fare una bella figura ma quanto ci vogliamo bene tra di noi Oggi quando sono iniziate le gare? Tutto, dal primo all'ultimo giorno È stato un insieme di emozioni, specialmente oggi con le gare, però tutto Quando ha cambiato la maglia con quelli della Sandy? Alla gioia, all'orgoglio, alla felicità Perché vederli poi dopo tutto il percorso che è stato fatto è stato veramente bello L'orgoglio di averci l'ha fatta, è di avere qualcosa di bene da raccontare No no no, stoppa il video, stoppa il video